Ha fatto andare su tutte le furie alcuni genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare Gentili di Fossola a Carrara. I loro bambini sono tornati a casa intonando Bella Ciao, il canto simbolo della resistenza. Così hanno preso il telefono e hanno chiamato la persona che certamente avrebbe dato loro ascolto per la sua notoria posizione politica. E così è stato. Gianni Musetti, consigliere comunale della destra, non ci ha pensato su due volte attaccando la scelta della maestra di insegnare ai piccoli la canzone dei partigiani. Le maestre invece di insegnare moda, tobacca o l'utilizzo dello strumento del flauto, così come succedeva anche a me quando andavo all'elementare, e hanno deciso di insegnare a memoria ai bambini di 7-8 anni, di seconda e di quinta elementare, di cantare Bella Ciao per l'essaggio di fine anno. Mi sembra una cosa piuttosto scandalosa, dato che le scuole dovrebbero essere private di una coscienza critica politica, ma semmai di un'educazione civica, che è giusto che ci sia, anche storica. Bella Ciao è la canzone della brigata partigiana rossa, quindi con i riferimenti politici comunisti, e di certo non è compatibile con bimbi di 7-8 anni che dovrebbero imparare altre cose a scuola, non di certo la dottrina politica, così come i professori vogliono fare. È una cosa che mi sembra conforme anche da quanto detto da Berlusconi, dal Presidente del Consiglio, che i professori a scuola invece di insegnare e dare un'educazione ai nostri figli, pensano a impartigli dottrine politiche che non fanno più parte del nostro secolo, non fanno più parte del nostro tempo. Quindi non le andava bene neanche se cantavano Facetta Nera? Ma certo che non mi andava bene se cantavano qualsiasi moto politico, perché non è giusto che le bimbi di quell'età abbiano già una costruzione politica da parte dei professori, che dovranno essere visti come dei genitori un pochino più grandi, quindi non come dei insegnanti politici.